8 favorevoli, 5 contrari. E' approvato il rendiconto 2019, quindi mai consiglio è stato più breve. Un consiglio comunale flash, quello di Roseto degli Abruzzi, durante il quale, anche con i voti decisivi dell'opposizione, si è approvato il bilancio dell'ente locale, risanare facendo il motto del sindaco. Abbiamo risanato il bilancio del comune di Roseto degli Abruzzi con 4 anni di politica di rigore, attenta al recupero dell'evasione, attenta ad utilizzare ogni economia possibile, la politica attenta ad intercettare fondi esterni. Abbiamo completato quest'opera di risanamento con la vendita di un'area sul lungomare, ma negli anni passati, per obbligo di legge e per imposizione dei revisori dei conti, io ho dovuto pagare già un milione e mezzo del disavanzo del consuntivo 2015 con fondi miei, quindi a prescindere da questa vendita. Questo ha comportato una forte sofferenza a livello di manutenzione della città. Risanare però facendo è stato il nostro motto. Oggi, superata la difficoltà economica, in questo ultimo anno di attività, in questo rush finale della consigliatura, ci sono le condizioni per dare grandi risposte alla città a livello di manutenzione del territorio. Quanto ha pesato il lockdown su questo bilancio? Ha pesato perché, innanzitutto, noi avremo una sofferenza nelle entrate come tutti i comuni e questa sofferenza nelle entrate avrà delle ripercussioni. Ma c'è anche l'altra problematica. Noi, ad esempio, abbiamo accordato ai nostri cittadini un rinvio nel pagamento di tutte le imposte. Questo rinvio nella riscossione di importanti tributi a fine anno, noi solo per questo rimetteremo circa 300 mila euro di costo per l'anticipazione di tesoreria che si renderà necessaria. La consigliatura di Digirolamo sta per volgere al termine. Nel 2021, infatti, sarà eletto un nuovo sindaco. Il primo cittadino uscente ha annunciato l'intenzione di ricandidarsi nel tentativo di compattare tutta l'area di centrosinistra. Non lascio le cose a metà. Le parole del sindaco. Io pongo la mia ricandidatura per le elezioni prossime del 2021 all'insegna della unità del centrosinistra. Vorrei essere una persona che unisce tutte le forze progressiste, tutte le forze riformiste di questa città e che porta al governo di questa città nel 2021 ancora un gruppo dirigente serio, onesto, competente.